caro amico stefano la cara strong ciao se come stai ciao carissimo sto bene benissimo è sempre un piacere essere ospite delle trasmissioni in realtà è oggi sono io che mi sento ospite anzi facciamo parte dello stesso gruppo di un team che ha evoluto fortemente allora presentiamo il poker di amici insieme perché ci sono con noi anche la nostra eva buonasera eva benvenuta no buonasera e ducisi in fundo ecco alessio che appena arrivato dopo una lunga giornata di lavoro allora io direi i ragazzi che innanzitutto diamo la parola al nostro capo è perché faccio questa breve premessa io stefano ci conosciamo da tanti anni sui campi gara sempre un piacere rincontrarsi e per me vedere anche tutto quello che sta facendo da quando è cominciato il suo percorso nel triathlon andate a vedervi la puntata di passione triathlon ci siamo fatti una bella chiacchierata un po di e